Sono stati sorpresi a rubare carrubbe, così i carabinieri hanno arrestato due uomini e una donna la scorsa settimana per furto aggravato in concorso in un terreno di contrada a Fiumara dopo la chiamata al 112 di un residente che riferiva della presenza di tre sconosciuti nella sua proprietà. Il tazzetto è stato quindi sorpreso dai militari mentre caricava i sacchi di juta pieni di carrubbe nel portabagagli di un'auto. Tre avevano tentato la fuga ma sono stati bloccati. I carabinieri hanno recuperato 17 sacchi di juta pieni di carrubbe del peso complessivo di circa 400 chili. Per Vasile Suna, 35 anni, Ion e Rakire Gorghita, di 39, entrambi già note le forze dell'ordine per l'incensurata Cristina Niculsia, 27 anni, tutti di origine rumena, sono scattate le manette. La merce è stata dunque restituita al proprietario mentre i tre rumeni sono stati sottoposti ai domiciliari. Gli arresti sono anche stavolta stati resi possibili in flagranza grazie alla sinergia tra cittadini e carabinieri e con la pronta segnalazione al 112.